Lorenzo, io spero che in un giorno non sia un peso per la società ma sia una risorsa. Marco è il papà di Lorenzo, un bimbo di sei anni affetto da autismo. Lo incontriamo nel cortile della Casa di Ritta dove viene presentato il progetto del nuovo Centro Autismo di Arezzo, il primo che nascerà in Toscana ed in particolare nel Colle del Pionta, un progetto cofinanziato da Asle, comune di Arezzo, per un impegno globale di quasi 2 milioni di euro. Il centro non avrà solo spazi destinati ai servizi sanitari, ma stiamo pensando anche a spazi che possono essere utilizzati dalle famiglie stesse per attività ricreative, attività che comunque girano intorno alla storia dei loro ragazzi. Questo sarà un centro che obbligherà e per fortuna farà sì che ci sarà un raccordo con tutta la zona che si amplierà, non sarà più la zona retina ma sarà la zona anche con Valtiverrine e Casentino, ma data la dimensione, ma soprattutto data anche la funzione, perché sarà un centro di ricerca, sarà un centro di formazione, quindi è evidente che avrà una valenza di raccordo per forza di cose. Quindi diciamo che in questo caso la struttura ci aiuterà a migliorare anche i servizi. L'incontro è anche il primo momento di confronto tra istituzioni e famiglie, messo in calendario dall'Associazione Autismo Arezzo. Tante le iniziative che porteranno alla giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo il prossimo 2 di aprile. Le terapie vanno, lo Stato deve dare quelle giuste, quelle che servono e quelle per i ragazzi di tutte le età. Noi vogliamo invece entrare in merito a quello che è tutto extra terapia, quindi il tempo libero, la vita, il lavoro, la scuola e su questo ci stiamo impegnando fortemente. Poi naturalmente la settimana è fatta anche di momenti più leggeri, conviviali, una cena di beneficenza perché noi chiaramente tutto quello che facciamo necessita di risorse e siamo contenti perché sperando che il mondo imprenditoriale e dei professionisti aderisca a questa iniziativa a venerdì 31, però proponiamo anche un film, il film è candidato all'Oscar Life Animated al Cinema Eden e poi proponiamo anche un grande spettacolo al Teatro Petrarca, sabato 1 aprile con Stalle Jordan, questo grande chitarrista jazz, e con tutto un ensemble che non dà meno di musicisti aretini. Dopodiché domenica, la vera giornata, faremo un po' di festa assieme a oltre 1300 ciclisti della Rampicchiana che veicoleranno il nostro messaggio e con un piccolo e importante spettacolo teatrale. Insomma, tutta la settimana per continuare a parlare di questo universo dei ragazzi, delle persone, degli adulti e dei bambini con autismo.